Molto contento, molto felice. E adesso la prossima, la semifinale. Con la Franza, speriamo andava bene. Con l'Inghilterra. Con Spagna, Marocco con Spagna, speriamo andava sempre avanti. Chi è stato il migliore in campo oggi? Oggi tutti i ragazzi hanno dato del tutto. Soprattutto un giocatore si è esploso, non ci sono parole per esprimere tutti i ragazzi del Marocco. Avete fatto la storia, la prima squadra africana in semifinale di un mondiale. La prima squadra a raggiungere il semifinale sia in Africa sia in tutto il mondo arabo. In più da un allonatore della propria nazione, Marocchino e Greggio. Adesso aspettiamo e giochiamo l'ultimissima partita per raggiungere il sogno. Sì, siamo partiti in Marocco. 1-0. Cristiano, vai e dorme Cristiano. Vai e dorme Cristiano. Dove può arrivare questo Marocco? Dove può arrivare questo Marocco? Il finale, il finale Marocco va in finale. Siamo i mondiali, siamo i favoriti, siamo le squadre più forti. Chi è stato il migliore in campo oggi? Tutti i giocatori, tutti. Tutti, abbiamo dato tutti l'anima. Come ci si sente ad arrivare a essere la prima squadra africana che arriva in semifinale al mondiale? Sì, sì, il Marocco. Viva il Marocco! Viva il Marocco! Aschè il Maghreb! Viva il Maghreb! Viva il Maghreb! Viva il Maghreb! Anche oggi un'altra big eliminata dopo la Spagna e il Portogallo. Mamma mia! Mamma mia! Mai visto come queste partite che passate? Mai visto, mai! Ma chi è il giocatore segreto di questa squadra che sta facendo sogni? C'è Ziad, Hakimi! Sapere chi gioca con Sampdoria! C'è Yamech che ha giocato con Genova! Mamma mia! Grande squadra! E adesso la semifinale! Il finale siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Siamo forti! Siamo forti! Forza l'Italia! Sempre forza l'Italia! Mi dispiace per gli italiani! Andate al Mondiale! Sono il posto di loro! Sempre giochiamo bene! Siamo il Marocco forte! Ciao! Grazie!